Io che lavoro in un'azienda multinazionale con pochi euro al mese e che non ho abbastanza per arrivare a fine mese Io che vivo intorno in un materasso in strada e che non mi può bastare e che ho sempre paura di domandare Non sogno una poltrona da cui ci rendo in casca per incantare ma sogno una bella donna profumata di Natale con i suoi segni e le sue labbra dolci da baciare Ma iniziano nuove regole per il commercio, negozi per incantare negozi aperti forse la domenica a Natale Stipendi che non si vedono per la gente che lavora ma soltanto per quelli lì che stanno sempre riseduti in poltrona Non sogno una poltrona da cui ci rendo in casca per incantare ma sogno una bella donna profumata di Natale con le sue labbra dolci e i suoi segni da baciare Buon Natale!